salva a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova prima mia avventura su minecraft in un mondo puramente vanilla come vedete ho la skin completamente di default perché ho intenzione poi di crearla insieme a voi e quindi per adesso mi limiterò a iniziare a giocare mi presento sono il povero vecchio nabbo povero perché sono povero vecchio perché sono vecchio nabbo perché sono nabbo infatti chiederò tantissimi i vostri consigli per questa avventura per questa avventura su minecraft iniziamo subito come vedete ho già un paio di livelli e qualche cuore in meno perché ho iniziato a cercare un posto che mi poteva piacere poi mi sono fermato qui perché ho detto questo è un'area che sembra fatta apposta per me ho visto un delfino prima che girava qui in zona quassù se vedete in lontananza ci sono delle montagne che è un bioma che io adoro o già il mercante ma tanto non abbiamo niente per poter commerciare con lui e quindi dicevo ci sono delle montagne c'è il mare ci sono delle montagne picco cosa che adoro e adesso andiamo a continuare l'esplorazione però sembra una zona in me potrebbe piacere adoro vedere queste cascate di lava o di acqua sono biomica d'oro oddio oddio uno scheletro uno scheletro rischiamo subito la morte così inizio gioco no ti prego ti prego ho delle canne da zucchero non sono canne da zucchero sono vediamo 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 prendiamole non le voglio rompere del tutto sono sì sono canne da zucchero scusate ragazzi ma ve l'ho detto sono il povero vecchio nabbo quindi in quanto nabbo devo vedere tutto quanto come si chiama ora vediamo com'è questa zona di sicuro abbiamo la sabbia per poter fare il vetro guardate che spettacolo sono aree perfette per costruire una casa nel mare non vedo coralli però vedo che sono acque calde dal colore quindi spero che nelle vicinanze ci siano ora prima cosa da fare tanto come tutti sapete in un mondo minecraft vanilla appena iniziato la prima cosa fare trovare delle piante da rompere per costruire per prendere il legno userò tra l'altro questo survival anche come piccolo tutorial per chi come me è un nabbo che ha iniziato da poco laggiù se non sbaglio sembrano delle fiamme può darsi ci sia della lava che ha bruciato qualcosa il mondo è stato creato da poco quindi non perdiamo tempo in chiacchiere e andiamo subito a prendere il legno ora come vedete io ho già qualche oggetto perché nel cercare il mondo avuto rompere qualcosa però voglio iniziare come se iniziasse per la prima volta con voi con il legno grezzo andiamoci a fare subito i tronchi in questo caso di guercia scura e con questi ci creiamo una crafting table cioè un banco da lavoro che è l'oggetto principale diciamo di tutto il gioco di minecraft perché ci permette di costruire praticamente tutto ora come zona avevo visto questa zona del mare mi piaceva molto qui c'è una cascatina e forse è da sistemare perché non è niente di che cerchiamo un'area dove possiamo iniziare a mettere le nostre cose e dove poi costruiremo una casa e tutto il resto o a me piace anche molto fare impianti redstone diciamo che conosco il meccanismo e voglio provare con voi a fare le varie cose questa è una prateria molto comoda perché ci sono gli animali di solito quindi dai diciamo che con quella zona di vicino la casa possiamo farla anche da queste parti iniziamo ad appoggiare la crafting table qui con questa come vedete io mi apro sempre il diario perché essendo un abbo non so le cose mi apro sempre questo qui che diciamo l'inventario un diario di spiegazioni come creare le cose e le cose bianche sono le cose che possiamo creare le cose rosse sono quello che ancora non possiamo creare perché ci manca qualche elemento facciamo per esempio il classico piccone che si fanno con due bastoncini e tre pezzi di legno sopra ovviamente le cose possiamo farle anche a mano se mettiamo i tre pezzi di legno sopra e due bastoncini come vedete il piccone si crea il piccone serve per rompere principalmente la pietra certo è legno a rompere la pietra non durerà molto però va più che bene ora andiamo a scavare da qualche parte possibilmente troviamo una zona dove già ci sia pietra ho visto poco fa qui una caverna carino questo laghetto mi piace no non è una caverna un canyon abbiamo anche un canyon vicino penso che sia il posto migliore per costruire tutto quanto e creare una grande nuova avventura comunque mi sto perdendo molto tempo in chiacchiere e il sole continua ad andare avanti siamo praticamente a mezzogiorno oddio no non devo correre perché mi viene fame sono abituato ad avere quanto cibo voglio laggiù vedo delle galline intanto rompiamo anche dell'erba perché rompendo l'erma l'erba ogni tanto ci appaiono dei semi semi che sono essenziali per fare il grano eccolo qua un seme due semi o maiali c'è di tutto qui qui possiamo scendere sì qui possiamo scendere non vedo particolari mob inizia a prendere un po di pietra oh ma uno zombie uno zombie non sono ancora armato ah oddio è pure piccolo quelli piccoli sono i peggiori i piccoli sono i peggiori speriamo che muoia presto corriamo 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 e quando muore questo aiuto 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 ho sentito è morto prendiamoci pure un po di carne che adesso anche se marcia anche se ci fa venire fame comunque il cibo scarseggia rischiamo la morte è sempre meglio avere qualche risorsa di cibo qualche pietra niente di che giusto per farmi i primi attrezzi ah la crafting table dove l'abbiamo messa dove l'abbiamo messa giusto per farmi i primi attrezzi di pietra che sono utilissimi quella era in questa zona qua giù andiamo 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 e ci facciamo il piccone di pietra con il piccone di pietra possiamo iniziare anche andare un po più in profondità dove farei anche un altro se ce la facciamo sì ce la facciamo e anche una spada a questo punto ah mi serve altra pietra quindi va bene prendiamo la crafting table oh come vedete è il periodo di natale quindi quelle che normalmente sono le casse adesso sono a modi pacchi di natale perché minecraft ci fa questo diciamo piccolo omaggio per poter abbellire di più la nostra zona e per poter fare eventuali alberi di natale ora riscendiamo qui con il piccone di pietra facciamo sicuramente prima prendiamo questi sento degli zombie in lontananza aiuto aiuto non siamo ancora armati prendiamoci subito la spada e già che ci siamo se ce la facciamo facciamoci subito la pala che tanto ci servirà e lascia ancora non riusciamo a farla quindi altro po' di pietra prendiamo questa tanto non ci serve a granché bastoncini io mi metto prima cosa da fare intanto il degno lo possiamo tagliare con l'ascia la pietra come abbiamo visto con il piccone e la terra con la pala abbiamo già una spada oh del ferro subito così in superficie spettacolare così potremmo farci i primi attrezzi con il ferro ed anche molto a quanto pare però la prima cosa che devo trovare sinceramente adesso sarà il carbone che è fondamentale per le prime fornaci anche se io non tendo a usare il carbone di solito tendo a usare la lava oh quanto ferro comunque siamo fortunatissimi sì 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 questo mondo è perfetto per noi vediamo sento ragni sento di tutto oddio ho paura però sono ancora nudo e quindi sono facilmente attaccabile tra l'altro ho pochi cuori io mangerei già mi sento meglio credo tra l'altro che si stia facendo notte oddio ma quanto ferro c'è scusate sicuramente vedete poco ma fino a che non trovo un po' di carbone mi trovo pure in difficoltà non so come fare luce ma c'è una quantità di ferro spaventosa qui siamo fortunatissimi riusciremo a farci tutte tutte le prime armi no ancora giorno anzi riusciremo a farci tutte le prime armi quindi la nostra crafting table subito sicuramente spada di ferro ah no devo romperla eccoci tornati scusate ho dovuto fare un piccolo taglio perché avevo un problema in casa cosa stavo facendo ah dobbiamo fare la fornace per la fornace abbiamo bisogno della crafting table abbiamo bisogno sempre della pietra per cui adesso andiamo a prenderla non voglio rompere deturpando l'ambiente perché mi piace lasciarlo possibilmente al naturale salvo qualche piccolo disboscamento che farò sicuramente all'inizio e vediamo crafting table prendiamo il nostro pietrisco e la fornace la facciamo in questa maniera fatta la fornace vedo che si sta facendo notte quindi andiamo a trovare un primo riparo ora prendiamo altro legno ce l'abbiamo un po' ma intanto lo prendiamo tagliando completamente il tronco piano piano la pianta si spalderà le foglie si romperanno e ci dropperanno anche qualche cosa ora andiamo a trovare un riparo io un riparo lo farei qua sotto almeno non andiamo a rompere troppo questa è pietra scusate se vedete ancora buio ma come vi ho detto fino a che non mi costruisco qualche cosa prendiamoci la pietra ce la mettiamo qui non ho nemmeno il carbone per rompere un po' di pietra per illuminare allora fornace ce la mettiamo qui nella fornace ci mettiamo il nostro legno che per adesso abbiamo poco come facciamo va bene non ci demoralizziamo mettiamo il nostro ferro cominciamo a mettere il nostro legno che comincerà a bruciare e a crearci come vedete dal ferro grezzo comincerà a creare piano piano dei lingotti di ferro poi prendiamo il legno grezzo ci creiamo i nostri assi e cominciamo a usarlo per adesso come combustibile non è la cosa migliore lo so però ho di necessità virtù quindi per adesso ci accontentiamo così ora nel frattempo faccio un piccolo taglio anche perché nel frattempo sicuramente è notte e oddio ho finito la terra no ce l'ho eccola qua e come un povero vecchio nabbo quale sono adesso mi metterò a ripararmi in questa caverna in questo buco creato appositamente quindi ora stacco nel frattempo il ferro si crea come vedete quando lo prendiamo ci da anche i livelli e ci vediamo tra poco ed eccoci di nuovo io praticamente ho preso già tutto il ferro che abbiamo fatto 27 è tantissimo per essere l'inizio dell'esperienza con questo mi vado subito a cartare come vedete posso fare tante altre cose vado subito a craftarmi una spada che si fa così e il ferro ops ho sbagliato pietra no sapete che sono così nabbo che non so niente giusto il bastone quindi una spada di ferro per difenderci questa ce la teniamo di riserva e io inizierei per adesso direi basta così possiamo iniziare a farci l'armatura di ferro che non sarebbe male se incontriamo qualche mob almeno siamo difesi e non rischiamo di morire subito ci facciamo quindi la corazza ci facciamo l'elmo ed ho paura che vediamo se riusciamo a fare i pantaloni scusate ma io ho l'abitudine di farlo in questa maniera oh forse riusciamo a farci tutto ne abbiamo 5 facciamo anche i boots i piedini ed ecco qua intanto vediamo se aggiorno sì almeno anche voi vedete qualche cosa usciamo di fuori come vedete adesso sono normale e siamo già a full ferro non è cosa da tutti direi vero? comunque va bene andiamo a riprenderci queste cose qua prendiamoci la crafting table prendiamoci la fornace e richiudiamo qui perché non mi piace lasciare buchi così a vista non ho abbastanza terra per chiuderlo tutto ma va bene non so neanche perché perché l'ho aperto io ah giusto alcune cose erano di pietra ecco perché non ho la terra per tutto ora prima cosa da fare buono carne marcia sempre buona in questo momento è sempre utile dopo sarà uno scarto ma per adesso va più che bene dove era la buca di prima? io voglio vedere se trovo del carbone che è essenziale non possiamo vivere senza carbone non può non esserci eccolo qua solo che abbiamo poco materiale è difficile arrivare dall'altra parte proviamo scendiamo qui e vediamo se da qui si riusciamo ad arrivare dall'altra parte sento degli scheletri speriamo non ci ritirino delle frecce altrimenti rischiamo di cadere comunque va bene intanto prendiamoci il carbone come vedete è il primo carbone che prende infatti ho sblocato anche la achievement con il carbone andiamo a farci subito immediatamente delle torce torce che vado a mettere qua almeno iniziamo a illuminare in modo che non spammano i mob dove è ben illuminato qua sotto oh che c'è qui sotto è poco però diciamo che sempre meglio di niente ho altro carbone da queste parti piccone per rompere la pietra oh quanto carbone si adorato carbone che ci aiuta anche a fare i livelli che per adesso non ci servono ma tra poco saranno fondamentali nel frattempo sento maiali piano piano ci andremo a fare anche tutte le nostre farm io tendo a fare le farm più al naturale possibile nel senso c'è la mucca faccio la stalla della mucca però poi magari o sotto o in qualche altro punto o ci andiamo a creare anche la farm automatica perché preferisco fare le farm perché mi piace tenere il gioco più naturale possibile però magari la farm automatica mi serve per più che altro per divertirmi e creare i meccanismi con la redstone il carbone per adesso l'abbiamo preso un po' ce ne basta quindi niente adesso inizieremo quello che è la parte principale del gioco quel minimo di risorse che ci servivano le abbiamo prese ecco il maiale che sentivamo come vedete ho anche abbastanza carbone ci andiamo a fare qualche tronchetto di legno tanto abbiamo foresta e foresta a nostra disposizione adoro ragazzi questa mappa cioè non potete capire quanto mi piace l'adoro quando ho visto il mare in quel modo le montagne a picco e tutto quanto nelle vicinanze ho visto i delfini in acqua ho detto no questa sarà casa mia rompiamoci quest'albero a questo punto lo rompiamo tutto anche perché rompendo l'avremo un bel po' essendo una quercia scura un bel po' di legna tutta per noi ci dovrebbe bastare almeno per un po' va bene vi penso che staccherò perché non vi voglio annoiare mentre taglio la legna per questa prima puntata è tutto fatemi sapere soprattutto se preferite che inizi costruendomi una prima casa o se preferite che mi dedichi subito alle risorse che comunque ci serviranno io di solito tendo a prendere le risorse cioè a crearci da soli delle miniere o cercare delle miniere già esistenti miniera o più che altro grotte magari trovare subito la miniera perché la casa si può fare in un secondo momento soprattutto anche dato il fatto che siamo comunque già in full ferro vediamoci come vedete abbiamo tantissima legna già e niente per questa prima puntata è tutto io sono sempre il povero vecchio Nabbo vi faccio un saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao